E con noi Nello Cutolo, direttore sportivo dell'Arezzo, con lui vogliamo fare il punto su questa fase di mercato che è abbastanza calda. Sì, diciamo che ecco che è dovuto un po' alla necessità di aspettare il 30 giugno, non mi nascondo che comunque diverse operazioni sono già portate a termine ma aspettiamo solo di ufficializzarne il 3 luglio proprio per una tempistica modulare, ecco, è solo quello che ci manca in questo momento. Ecco, avete già intercettato i giocatori e soprattutto i reparti da rinforzare in vista di questo campionato che si preannuncia difficile? Sì, ecco, vi posso già annunciare che nella prima settimana, vado a dire il 3 luglio, sarà ufficializzato l'altra punta esterna il terzino destro che farà coppia insieme a Poggesa che è il del 2001 e poi sempre nella prossima settimana dovremmo essere a buon punto per chiudere comunque per il centrocampista over. Ecco, c'è molto entusiasmo anche perché non abbiamo ricordanze che l'Arezzo sia ripartita da alcuni punti fermi, fondamentali dal punto di vista tecnico. Tutti gli anni c'era sempre da ricostruire dalle fondamenta, invece quest'anno c'è veramente qualcosa di solido. Sì, perché si è fatto un ottimo lavoro la stagione scorsa, quindi noi ci tenevamo a riconfermare come è stato fatto 14 giocatori perché oltre all'aspetto tecnico ci sono dei valori umani veramente importanti. Quindi noi partiamo da una base così dove andremo ad integrare con 10 giocatori che ovviamente insieme a questo gruppo già consolidato bisogna alzare comunque il livello perché ci apprestiamo a fare un campionato diverso come quello della Serie C. Ecco, c'è tanta incertezza in questo girone, non sappiamo ancora di preciso chi ci sarà. Ci sono 3-4 caselle ancora da riempire. Sì, come ogni anno tra l'altro, si arriva sempre a questo punto che poi tra i vari ricorsi c'è da aspettare. Noi guardiamo in casa nostra, abbiamo le idee molto chiare su quello che bisogna fare, dove intervenire e quindi penso che il nostro lavoro sta andando con i tempi giusti di pari passo a quello che ci eravamo prefissati. Questo è un anno importante quello che ci aspetta perché è l'anno del centenario. E questo è un anno fondamentale, come ci siamo detti, è un anno che bisognava vincere se fatto e consolidarci in questa categoria che per noi è veramente troppo troppo importante anche perché è una società che sta crescendo tantissimo, oltre ai vari investimenti che sta facendo la proprietà c'è la curiosità che ci trasferiremo a Rigutino perché anche da parte nostra c'è curiosità ma penso che sia anche giusto, come ha detto il Presidente qualche mese fa, che l'Arezzo abbia una sua casa. Quindi si riparte da lì con grandissimo entusiasmo e grandissime ambizioni, come sempre.